Un giorno speciale per tagliare il nastro di partenza della stagione 2016-2017, la stagione che celebrerà i 10 anni dalla fondazione del Città di Mascaruccia. E per l'occasione, proprio nel giorno della gara di Coppa Italia con lo Sporting Tre Castagni, sabato 3 settembre, si è voluto dare luogo all'Open Day. Una vera e propria full immersion nell'attività della scuola calcio Biancazzurra che entrerà nel vivo a partire da lunedì. Ma la cornice dello stadio Buonaiuto Somma ha regalato il fascino di una giornata di allenamenti e divertimento per esordienti, pulcini e piccoli amici delle mascheruccia che hanno preso le metodologie di allenamento da approfondire durante l'annata, ormai alle porte. 60 e più tra bambini e ragazzi agli ordini del nuovo direttore tecnico Gaspare Cacciola, di mister e istruttori come Alessandro Marino e quelli della scuola calcio che operano tra il campo Sport Innovation e il comunale. Salvo Impelizieri, Gaetano Catalano, Andrea Spina e Alessandro Caronda. Un grande momento di aggregazione nella giornata che ha passato in rassegna tutto il calcio che ruota attorno all'universo del città di Mascaruccia, società presieduta da Giovanni Spina e sostenuta da dirigenti di Spessore. Anche il vice sindaco della cittadina con delega allo sport Fabio Cantarella ha portato i suoi saluti durante la manifestazione che si è svolta con una seduta mattutina e una pomeridiana. I nati dal 2003 in poi hanno sfidato il caldo, senza poi risentirne più di tanto, tanta era la voglia di poter calciare nuovamente il pallone e rimettersi in gioco dopo la pausa estiva. E adesso il via ufficiale alla stagione a partire dal lunedì pomeriggio. Gaspare Cacciola, primo giorno, questo Open Day dedicato alle scuole calcio, come hai trovato questi bambini instancabili nonostante il caldo? Sì, è stata una giornata sotto il sole, però gli ho fatto i complimenti, hanno fatto un ottimo lavoro, ho visto grande impegno, grande voglia e sono convinto che quest'anno riusciremo a fare qualcosa di importante. Stiamo lavorando proprio per cercare di trovare la metodologia comune per tutti e portare questo percorso da piccoli amici fino poi alle categorie pulcini, esordienti e poi a Salento giovanissimi allievi per avere un settore giovanile che possa essere sia da serbatoio per la prima squadra sia per cercare anche di costruire qualcosa, qualche prodotto importante perché ho visto che c'è molto materiale. I numeri sono confortanti perché oggi i bambini erano oltre 50? Sì, è andato oltre ogni più rosa aspettativa, chiaramente considerato il sabato il caldo, ci aspettavamo ovviamente qualcosa in meno, siamo contenti e speriamo di crescere anche sotto l'aspetto numerico. Sì, è andato oltre. Sì, è andato oltre. Sì, è andato oltre. Sì, è andato oltre. Sì, è andato. Sì, è andato. All the girls Sì, è andato oltre. Sì, è andato. 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 Sì, è andato.